Buongiorno da parte di Menessi c'è dentro Borrello può arrivare Borrello una straccia bagnato in un gol straordinario Super Marco Borrello 2-0 Roma questo è un gol voluto con la grinta con la cattiveria di un attacco albero Menessi adesso è bagnato il secondo ballo Borrello gol 2-0 ancora Sergio Marco Borrello Borrello in sinistra gol 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti